Un'agenda fitta di incontri e pianificazioni per il tanto atteso avvio di Expo 2015 a Milano. La vetrina internazionale che vedrà contendersi da tutte le parti del mondo buyers e accordi per esportare i migliori prodotti gastronomici messi in vetrina. L'Abruzzo prosegue l'indice delle sue eccellenze ed oggi l'ennesima riunione. Al centro il capitolo Teramo e le sue virtù. La riunione si è incentrata peculiarmente su un evento che io ritengo clou per il tema che è il fondamento di questa edizione dell'Expo che è il cibo. Abbiamo un sollecito anche abbastanza costante e continuo da parte di Slow Food per porre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale che sarà presente all'Expo 2015 a Milano di quelle emergenze, di quelle eccellenze nel territorio abruzzese per quanto riguarda la tipicità del prodotto. In particolare noi parliamo in questo caso di virtù, delle virtù terramane. Noi stiamo programmando insieme con il Comune di Teramo, con la Camera di Commercio di Teramo, con l'associazione Slow Food, con la DMC, con poi un'associazione che prenderà cura proprio dell'organizzazione costante di questo avvenimento che è un avvenimento così estemporaneo, un'anteprima delle virtù a Milano per poi ripeterla il primo maggio come notorio su Teramo. Si chiamerà Casa Abruzzo l'area dedicata alla nostra regione, dove a caratterizzare la tipicità del luogo non sarà solo la buona cucina ma anche la magia delle sue tradizioni. Ecco dunque chi entrerà di diritto nella vetrina più invidiata di tutti i tempi. Abbiamo intenzione negli eventi di portare a Milano le grandi manifestazioni storiche abruzzese, i banderesi di Bucchiani con il masto giurato di Lanciano, la perdonanza celestiniana, la giusta cavalleresca di Sulmone, il laccio d'amore di Penna Sant'Andrea, tutte quelle cose che si sono dichiarate disponibili ad essere presenti, come anche gli sbandieratori, che i sbandieratori abruzzesi sono i migliori d'Italia, noi non lo sappiamo qui in Abruzzo. E anche quell'artigianato artistico che fa dell'Abruzzo una presenza straordinaria nell'ambito di settori come la filigrana in oro, il tombolo, la ceramica, per cui costruire all'interno di questa casa Abruzzo una boutique Abruzzo che sia anche uno showroom e show cooking per quanto riguarda i nostri prodotti tipici.